Ciascuno faccia come è deliberato nel suo cuore, non ti malavoglia né per forza perché Dio ama un donatore allegro. Grazie. E' sufficiente in ogni cosa voi abbondiate per ogni buona opera come sta scritto. Egli ha sparso, Egli ha dato ai poveri la sua giustazia dura in eterno. Grazie. 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 Grazie.